Sarebbero collegate e presto potrebbero essere riunite le indagini della procura di Trani in merito allo scandalo sui derivati e sulla presunta manipolazione del tasso Euribor. La notizia filtra dagli ambienti giudiziari tranesi dove è attesa in settimana la deposizione come testimone del responsabile della tesoreria centrata del Monte dei Paschi di Siena, Paolo Bosio. Entrambe le inchieste sono state affidate al PM inquirente Michele Ruggero, che indaga nell'Euribor per la manipolazione del mercato finanziario da parte di sette trader di diverse nazionalità, operante nella city londinese, per conto di cinque tra le maggiori banche a livello mondiale. Secondo l'ipotesi accusatoria, il tasso Euribor, e cioè il tasso di riferimento che indica in euro l'interesse medio delle transazioni fra le principali banche europee, sarebbe stato manipolato al rialzo dai sette operatori, determinando profitti a favore dei cinque istituti di credito. Anziché comunicare giornalmente il tasso di interesse di scambio tra le banche, i trader si mettevano d'accordo per alterare il valore. Grazie a questo meccanismo, gli operatori avrebbero influenzato il mercato finanziario e bancario italiano, provocando ingenti perdite e sottoscrittori di muti e derivati agganciati all'Euribor. Secondo l'Adusbef, l'associazione di consumatori che opera in ambito finanziario, la truffa avrebbe provocato un buco da oltre 3 milioni di euro, coinvolgendo 2 milioni e mezzo di risparmiatori italiani.